...chiedendo giustizia. Passato con i SUV lo speronamento di un'automobile e la sparatoria. In un video il regolamento di conti tra due bande di Roma avvenuto alcuni giorni fa nella Bergamo. Due hammer, uno di fronte all'altro. All'improvviso arriva un'auto grigia, si lancia contro il grosso fuoristolo. In un video il regolamento di Roma In un video il regolamento di Roma In un video il regolamento di Roma Mamma, sisto mia! 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 Vieni! Mia, sto! Grande! Mia, sto! Mia! Sto! Mia! Ma se lo faccio con tutte e tre c'ho tre pezzi, ho tre pezzi, sedute, terra, e l'altro tetto è blu, è una, chiamala, ha qui, non è valido. seduta, terra, ma fa roba bene a blu, è per blu, è per blu, è per blu, è per blu, alzati in piedi, mia donna, seduta, chiamale tutte di là, non così, è seduta, ed è la mamma non ti vede di lì, chiamale tutte, chiamale tutte, chiamale, blu, vieni, blu, vieni, in venta, andò, seduta, un frisco, chiamale, l'hai preso, la mia capa, cieni, ti fai male qui, l'hai visto? faceva un video lui, mi sono avanti con le mani, mi sono avanti con le mani, mi sono avanti con le mani, mi sono avanti, devi fare un video che facciamo, ma dov'è l'arriere? ciao, terra, 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 scusa, caldo, e terra, grazie grazie grazie